Secondo appuntamento con il Ducky's Friday presso la palestra Ducky Gym di Terni. Anche questa volta stile, musica, eleganza e buon cibo hanno contrassegnato la serata sotto la direzione artistica di Tiziano Ribiscini, a fare gli onori di casa Elisabetta Parisi e Maurizio Di Gennaro, titolari della palestra, che per l'occasione reinventa i suoi spazi trasformandoli in un club dove ascoltare musica live e ballare. Per il secondo evento sarà protagonista la musica dal Brasile con Almir Dacruz, chitarrista e cantante brasiliano di straordinario talento ed energia. Secondo evento del Ducky's Friday, Elisabetta Betta per tutti, una grande serata che insomma conferma già il successo del primo evento. Sì, salve a tutti, sono Elisabetta Parisi, sono la proprietaria della Ducky Gym e abbiamo rifatto il nostro evento e diciamo che sta iniziando ad andare abbastanza bene. Noi come sempre cerchiamo di spingere questi eventi che nella nostra città secondo me mancano e anche a livello culturale, proprio di cultura musicale, che siamo un po' scarsi compresa io e spero con l'aiuto anche di Diziano, che è il nostro direttore artistico, che la cosa possa andare sempre più in porto e avere un grosso successo. Maurizio, insomma, fitness, benessere e anche la vita che comunque la gente ha bisogno, no? di movimentare questa Terni magari un po' sonnocchiosa. Sì, noi, salva a tutti, sono Maurizio Di Gennaro, titolare della Ducky Gym. Sì, proprio così, noi vogliamo risvegliare un po' il modo di fare anche fitness a Terni, cioè non solo un'aggregazione che è un'ora solamente, ma continuare la frequentazione anche, perché no, anche una volta al mese con degli eventi che grazie a Tiziano stanno sempre più migliorando in qualità musicale. Quindi, ecco, ci saranno altri venerdì? Sicuramente sì, stiamo preparando con Tiziano il venerdì tra Natale, probabilmente tra Natale e Capodanno, sarà un grosso evento e di cui Tiziano sarà protagonista. Allora, il protagonista, Tiziano Iviscini, insomma, dice un po' che cosa... Noi siamo alla ricerca del ritmo perfetto, ancora non l'abbiamo scoperto e a base di questo andiamo a spasso per il mondo. Nella prima puntata abbiamo avuto Angela Mosley da Chicago, questa sera abbiamo Almir da Cruz dal Brasile, e così andiamo a spasso nelle tradizioni del pianeta Terra. Per Natale probabilmente faremo una festa vera e propria con i DJ, ma è ancora tutto in the making. Però la città sta reggendo, vedo che c'è molto interesse. Sì, è abbastanza stimolante e stimolata la gente, ho visto, siamo seguiti, siamo contenti e grati di questo. Allora, l'ultimo saluto lo facciamo fare a Betta. Ciao a tutti e vi aspettiamo qui alla Dagi Gym, non solo per sudare, ma anche a scopo ludico e per rilassarvi e divertirvi. Grazie a tutti.